Il bitonto vince ancora e mostra il suo volto più fascinoso, compatto e tetragono, confermando come si vada consolidando l'afflato corale del gruppo, al di là di un valore tecnico già incontestabile. Dunque, mister Claudio De Luca, sul prato zuppo d'acqua del Città degli Ulivi, conferma l'undici che aveva sbancato con merito il poli molfettese e mette a guardia dei pali Lonoce, protetto dagli insuperabili Lanzolla e Colella, in mediana il signore di centrocampo Manzo ed il gladiatorino Invitto Mariani, lo strarippante triarico d'Anna e Capitan Lattanzio a sostegno del letale Santoro. Nicola Romaniello, nuovo allenatore del San Giorgio a Cremano, patria dell'indimenticato genio della comicità poetica e surreale Massimo Troisi, presenta una formazione fiera e tenace dall'atteggiamento aperto e leale che vale più dei due miseri punticini in classifica. E' messita così con saggezza, gioventù ed esperienza, con Cassese e Autieri dietro, Navas e Di Pietro a menare le danze e il quasi immarcabile Mancini con Varela e Raiola davanti. Gli ospiti si prendono l'incipit del match con due occasioni. Al quarto, capocciata perfida di Varela, salda la presa di Lonoce. 120 secondi e Mancini era sotterra di Raiola, ancora impeccabile l'estremo di casa. Al quarto d'ora, il vantaggio nero-verde. Ricchi imbecca d'Anna che dribbla la sua sentinella e crossa. Il puntero andriese spizza la sfera che viene toccata da un incerto cefariello. Il piedino di Santoro è predace in sacca. Minuto 24, Mancini coglie l'attimo fuggente e fuffa il cuoio a canutè che ingenuo lo stende. Dal dischetto Di Pietro spiazza Lonoce ed è pareggio. Triangolo chilometrico e perfetto fra l'attaccante andriese e l'ala salentina al trentaseiesimo. Il piattone del primo sfiora la traversa. Due minuti e consueta parabola a concia di Danna, incornata nell'angolo di Santoro. Bracaccini di Macerata cancella il gol, ma non i dubbi. Al quinto e dall'intervallo, altra inzuccata, del nove stavolta però, al lato di un soffio. Nella ripresa, il Leone ruggisce ancora di più, se possibile, dopo il bolide di Raiola dai 30 metri disinnescato dai guantoni di Lonoce. Al quarto, l'esterno sinistro serve Triarico, sponda per Manzo che calcia a giro ma non troppo. Il portiere Campano si rifugia in corner. Ancora un paio di minuti e nel pieno di una mischia il tiro di Canutè viene contrato da Mercorella e si fa innocuo. Poi, sul sinistro di Lattanzio, va in affanno il golkeeper San Giorgese che pure si salva. Al decimo, Manzo Pennella per l'irresistibile indemoniato Triarico, palla invitante per Santoro che incredibilmente schiaccia fuori. Il punto del successo, finalmente al ventesimo. Il fantasista bonsai maginifico Taurino viene trebbiato sulla trequarte. Colaci si inventa un destro beffardo. Il Paolo offre un assist lucente per Triarico che doma la sfera e segna. Poco dopo tocca a Luisco dell'Are per Santoro che artiglia in mezza girata. Cefariello guizza e respinge. A tre dalla mezza, su pallone spiovente dalla bandierina, Colella in fuga offensiva si esibisce in una rovesciata teatrale sì, ma poco efficace. Insomma, la corazzata neroverde del patron Francesco Rossiello è sempre lì ad una incollatura dalla vetta e non vede l'ora di salirci su.